Vivarini è un momento non facile dal punto di vista dei risultati per il Teramo e questo forse aiuterà a non sottovalutare il prossimo avversario che è la propria Cenza che è una squadra sicuramente dignitosissima ma non è neanche la Spal o il Pisa. Diciamo che loro sono partiti con dieci punti di penalizzazione quindi diciamo in questo caso qua i punti li hanno fatti quindi è una squadra importante da prendere con grande attenzione soprattutto riferito anche al momento in cui ci troviamo che è troppo importante fare risultato. Quindi sarà una partita sotto l'aspetto emotivo molto importante sia da parte nostra ma anche da parte loro perché loro pure vengono da un paio di risultati negativi quindi sarà sicuramente difficile da affrontare ma diciamo per i resti della squadra che siamo li ho visti molto molto bene quindi sarà una partita interessante. Ecco al di là degli acciacchi dell'attacco però manca l'unico difensore laterale di ruolo e il centrocampista con il miglior rendimento finora Scipioni e Cenciarelli questo la preoccupa mister? Ma no no il problema è che non è che mi preoccupa questo perché poi chiaramente se andiamo a analizzare la situazione attuale del Teramo purtroppo dobbiamo calcolare che abbiamo una rosa molto molto ristretta perché è venuto meno Caide, è venuto meno Fiore insomma poi eravamo partiti già con una rosa abbastanza ristretta. Da calcolare che da più di un mese e mezzo che io non so se è domenica la Badù la gioca o non giochi insomma non si allena mai con la squadra insomma i problemi ne abbiamo tanti 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 e poi bisogna comunque fare risultato perché la cosa che conta nel calcio è il risultato. Contate sull'apporto del pubblico che vi segue numeroso quest'anno ci sarà bisogno anche del loro supporto per superare questo piccolo momento d'impasso? Ma sicuramente questa è una cosa che ci ha dato sempre un grande sostegno soprattutto la curva che ci sta veramente molto vicino e questo è l'aiuto veramente importante che abbiamo che in questo momento qui e per questo campionato ne abbiamo veramente bisogno perché tutte le squadre sono attrezzate bene. Secondo me molti sottovalutano un pochettino l'importanza di questo campionato dove troviamo delle squadre con dei giocatori importanti di chiacchiere possiamo fare tanti ma fare risultato c'è veramente una conquista quindi speriamo che sabato riusciamo in questa impresa.